Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi vi propongo questa scheda per creare un simpaticissimo quadro con limone. La scheda ho già iniziato a colorarla e adesso vi spiego cosa ho fatto. Allora ho preso un righello e con il righello ho fatto delle righe in modo casuale e ora le sto colorando come vedete in modo diverso, sempre restando comunque su una tonalità di azzurro blu. Adesso vedremo come fare. Potete anche colorare il quadro come volete quindi non so tutto di azzurro perché per me il limone va con lo sfondo azzurro ma in realtà potete usare il colore che volete e fare lo sfondo come preferite. Poi una volta finito lo sfondo potete iniziare a utilizzare la scheda qua quindi l'altra la seconda parte della scheda e quindi a realizzare questi simpatici limoni. Adesso vi faccio vedere. Allora io qui per quanto riguarda lo sfondo come vi dicevo sto utilizzando delle tecniche diverse quindi sto utilizzando un modo insomma di disegnare in modo diverso. Quindi questa parte, questa sezione la sto facendo a puntini, questa altra sezione invece la sto facendo colore di un unico colore quindi tinta unita e ora andiamo a vedere come farò le altre sezioni. Allora come vi dicevo le faccio un po' casuali e una diversa dall'altra quindi in questo caso farò delle ondine che poi andrò a richiamare anche in questa qua sopra. mentre per quanto riguarda questa faccio delle righe quindi cambio un po' e faccio con l'aiuto di un righello mi posiziono potete o prendere proprio le misure perfette e precise oppure andare un po' a occhio e fare in questo modo. Queste ecco come vi dicevo sono proprio delle idee di come poter realizzare uno sfondo diverso dal solito per poi andare a preparare la nostra come si chiama la nostra scheda con il limone qui ad esempio farò così vedete ok io ho deciso che resto come vi dicevo sui toni dell'azzurro però potete anche utilizzare altri colori non so perché come vi dicevo prima ma il limone mi viene di azzurro mi sovviene di con lo sfondo azzurro allora faccio in questo modo ecco la scheda vi ricordo che è riservata agli iscritti al club di bimbi creativi quindi se non vi siete ancora iscritti vi consiglio di iscrivervi il prima possibile perché perché così potrete ricevere tutte queste schede direttamente sulla vostra email e non dovrete più a star lì come dico io a sbattervi a cercare schede e cose da far fare ai bambini in internet quindi avrete già tutto pronto e tutte queste schede potranno essere utilizzate dai bambini allora l'altra volta abbiamo fatto le ciliegie con gli occhi che sono venute molto molto carine e potete trovare il video anche sul mio canale youtube e oggi invece facciamo i limoni poi per la per la prossima scheda vi do già un'anticipazione resteremo sempre nell'argomento frutta come questi qua qui vado avanti a fare le mie ondine ecco come sempre vi ricordo anche i miei libri su amazon quindi se soprattutto adesso che dovete andare in vacanza se non sapete cosa fare o come intrattenere i bambini durante i viaggi vi consiglio questi libri che servono proprio per creare lavoretti e potete utilizzarli in aereo in montagna al mare in treno dove in auto dove volete vi serviranno solo i libri i colori quindi i colori per colorare le schede la colla e le forbici ecco magari in auto se la macchina è ferma se non adesso è pericoloso usare questi strumenti però in tutti gli altri mezzi che vi ho citato prima potete usarli senza grossi problemi ecco qua io sto andando avanti a fare le righine e tra poco mi sposto dallo sfondo e vado a chi iniziare a fare i veri e propri limoni prima però da un colpettino di rosa perché secondo me qua il rosa ci può stare con l'azzurro anche un colpetto di rosa male non fa ecco qua poi come dicevo all'inizio usate i colori che preferite e niente facciamo una righina rosa quella ok vediamo che con l'azzurro ci sta proprio bene ok basta così adesso passiamo invece alla parte del limone allora questa è la foglia quindi andrò a colorarla di verde mentre di qui ho proprio il vero e proprio limone che è stato fatto in questo modo quindi qui lo faccio un po sull'arancione perché servirebbe una tonalità diversa di giallo ma in questo momento usando almeno i pennarelli non ce l'ho ma anche l'arancione insomma va bene è giusto per dare un po di effetto al nostro limone poi il limone come già detto anche per le ciliegie potete decidere se utilizzare o meno gli occhietti vedete io vi ho preparato gli occhietti non li ho colorati non li ho disegnati direttamente sulla scheda perché a seconda che vogliate ottenere un quadro un po più serio oppure meno serio insomma a seconda dell'utilizzo che ne dovete fare potete decidere se mettere o meno gli occhi se decidete di fare gli occhi vi consiglio di fare anche la bocca utilizzando un pennarello nero come dopo vi faccio vedere allora nel frattempo visto anche voi non potete vederlo ma mi sto guardando attorno perché sto guardando di essere sicura di avere tutto a portata di mano perché in realtà stamattina ho iniziato il video così ma non ho verificato se avevo la colla e le forbici a portata di mano invece se ce l'ho qua vicino quindi posso tranquillamente andare avanti con il video allora partiamo a fare la parte questa della del limone io poi vado anche abbastanza veloce per una questione di tempo per non farvi video che durino ore e ore quindi sto andando un po veloce magari non sono proprio precisa però in questo modo riuscite poi a vedere in pochi minuti quello che sto facendo se volete vedere i video accelerati andate anche sul mio profilo instagram che lì li vedete molto molto accelerati che durano pochi pochi minuti forse meno di un minuto addirittura ecco qua allora il mio limone è pronto vediamo se questo di un colore diverso per fare qualche righina ma sì ci sta più o meno lo stesso colore però facciamo qualche righina tipica del limone una volta fatto tutto cosa mi resta da fare non mi resta che ritagliare il mio quadretto in questo modo allora qui io ho lasciato vedete lo spazio bianco ma potete colorarlo dopo magari vi metto la foto dove l'ho colorato così vediamo come viene qui invece vado a ritagliare il mio limone come vi dico sempre se volete dare un maggior risalto al disegno cercate di ritagliare tenendo i bordini neri perché in questo modo il disegno risalta molto di più allora vado avanti anche qui a ritagliare tutto ecco qua il mio super limone ritagliato velocemente ok e poi ecco vi ricordo quando vi iscrivete al club di bimbi creativi di chiedere anche l'accesso al al gruppo facebook esclusivo che lì è dove faccio i laboratori creativi che potete o seguire in diretta online oppure guardare quando volete quindi quando vi fa più comodo i video restano sempre registrati all'interno del gruppo e li potete guardare quando preferite abbiamo quasi finito la parte di ritaglio e ora non ci resta che passare alla parte dell'incollaggio infatti tutte le schede sono pensate per essere colorate ritagliate e incollate vediamo qua è quasi pronto il mio limone se doveste inadvertitamente tagliare troppo e quindi tagliare via i bordi neri non preoccupatevi perché potete sempre ripassarli con un pennarello nero magari a punta fine così riuscite a dargli insomma quel dettaglio in più allora ecco qua tutto fatto ora vado a incollare la mia scheda in questo modo allora io vi consiglio sempre di far prima la prova per vedere come volete fare allora sì io ho pensato di farlo un po in ordine sparso e di fare così ecco qua allora e ora vado a incollare quindi partirò da questa parte poi ovviamente voi potete mettere anche i limoni tutti vicini potete mettere uno sopra l'altro potete fare come volete potete anche partire da questa scheda per aggiungere degli elementi quindi se volete potete anche disegnare altri limoni da incollare oppure potete aggiungere ai limoni delle delle altre caratteristiche ecco qua io ho quasi finito poi vi faccio vedere che io farò anche la bocca al mio limone ok con pennarello nero vado a creare anche la bocca e faccio anche delle guance in questo modo ecco fatto il mio quadro con limone è finito spero che vi piaccia e basta se volete la scheda iscrivetevi al club vi lascio il link nel post a presto con la prossima idea creativa ciao a tutti